Chiude in bellezza l'Ischia Teatro Festival con lo spettacolo del weekend, ne parliamo con Enzo Boffelli, di che cosa si tratta? Buonasera, è uno spettacolo della fine settimana, uno spettacolo che chiude la Kermess di quest'anno, è uno spettacolo che abbiamo scelto e selezionato per chiudere in maniera diversa la Kermess di quest'anno, che è quella che ha rappresentato la prima con il nuovo palco, quindi la nuova struttura palco ci ha consentito di selezionare una compagnia della terra firma per proporre uno spettacolo diverso al pubblico ischitano, anche per attestare dopo 60 serate di teatro e 5 mesi continui tutti i fine settimana insomma a che punto siamo arrivati con il movimento e con la diffusione del teatro, che è la cosa che più conta in questo momento. Dacci qualche particolare in più dello spettacolo, di che cosa si tratta? Brandelli d'Italia è uno spettacolo che viene rappresentato dalla compagnia impertinente, la compagnia di Foggia, ed è frutto di un anno di lavoro, di una scuola di recitazione che ha messo in scena, che ha assemblato questo spettacolo, uno spettacolo altamente ironico, diciamo che affronta temi che vanno dalla politica fino alla televisione, fino insomma, ecco un po' uno specchio del nostro paese visto dalla prospettiva di Pierluigi Bevilacqua, che è il regista e ideatore di questo spettacolo. Sipario? Sipario alle ore 21, sempre venerdì, sabato e domenica, i biglietti sono già disponibili presso le prevendite abituali oppure presso il botteghino del teatro polifunzionale.